L'amministrazione comunale di Gaeta scivola sui rifiuti. L'assessore Giovanni Galongo rimette le deleghe all'ambiente e alla nettezza urbana, ora affidate al sindaco, ma conserva gli incarichi alla viabilità e polizia municipale. Le opposizioni invocano invece le dimissioni dell'assessore da qualsiasi incarico. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Antonio Raimondi in apertura del Consiglio Comunale incentrato su un unico scottante argomento, quello riguardante i rapporti tesi tra il Comune e la ditta De Vizia Transfer che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. I problemi sono nati da un contenzioso per inadempienze reciproche tra il Comune e la ditta. Nei confronti di quest'ultima il Comune ha un debito di 3 milioni di euro. Non sarebbero state cioè pagate fatture con puntualità, mentre il Comune accusa la società di non aver rispettato il capitolato d'appalto sia per quanto concerne la sostituzione del parco mezzi sia per la creazione di un'isola ecologica. E' stata invocata anche un'indagine conoscitiva del Ministero dell'Economia. La Giunta intanto ha dato mandato all'Avvocatura Comunale di quantificare sia le inadempienze del Comune che quelle della ditta prima di decidere se rescindere il contratto o procedere ad una transazione.